a cazzo ragazzo e infatti e tutti mi hanno raggiunto comunque incredibile tre secondi mi hanno raggiunto tutti quanti questi bastardelli e niente la mia partita ragazzi la mia adesso mi metto a piangere scusatevi ma è il momento giusto per mettersi a piangere cioè dai c'è dai c'è dai c'è dai mi dispiace ma chi è questo anonimo guarda quanto è anonimo è solo blu non ha nulla cioè incredibile guarda non posso io devo utilizzare le mie skill non posso affidarmi alle cose random ma guarda tutto pezzo di merda ho appena visto qualcuno cascare davanti a me proprio è cascato fortissimo ok molto bene molto bene che stronzi quelli che ti si aggrappano al cotto ci sono aggrappati al cazzo no non si fa guarda che ci sono questi qui davanti al cotto si 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 bastardi la banana la banana mi ha preso da dietro così mi teneva mentre io salivo ma va a fare l'ovo ma fatti gli affari la banana ti ha preso da dietro perfetto no sono cose che succedono ragazzi ma mi raccomando andate a comprare coca cola il nuovo sponsor di parola al vento praticamente ci sono queste bottigliette molto carine carine bellissime ragazzi colore nero della coca cola colore molto molto scuro ma c'è questo rosso che risalta in maniera incredibile abbiamo una sposta ship vogliamo sapere il gusto buonissimo ragazzi fa fare un sacco di ruti andare a comprare coca cola viola oggi ci rutterà in live oggi ragazzi viola ci farà un ruttone in live on fire on fire ragazzi volevi fare voli fare esercizi facciamo esercizi su da la sedia Irene su da la sedia su da la sedia su su acqua gym acqua gym ragazzi siete pronti con acqua gym in piedi non potete stare seduti adesso ma che so di un balliglupo eh tutti adatta allora io da ragazzi bisogna andare sul collo lungo Irene deve cavalcare qualcosa di molto lungo che è il collo lungo muori patata ok lui è morto questa patata è morta lui muori anche tu patata è morta anche lui vi ricordo che siamo in modalità ultra difficile l'ombra ha parlato ragazzi l'ho ucciso l'ho ucciso ragazzi non ho potuto fare niente ragazzi questa cosa non è mai successa sappiato non è mai successo ops questo cos'è un polipo che sai lo posso ammazzare allora non ci posso andare questo è un nuovo tipo di spine scusa è un polipo lo posso ammazzo scusami Vito ok ok oh no 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 sì 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 ma 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 oddio ma sono bellissimi sono tipo Ali Difata ma sono bellissimi cazzo sono meravigliosi sono innamorata di questi occhiali ragazzi lo sapete con fetiche per gli occhiali E sono bellissimi Ci vedo un cazzo ragazzi Non ci vedo niente Secondo voi lo posso levare? Secondo me si Secondo me si può levare E invece c'è una fatina a 90 ragazzi Chi se lo sarebbe mai immaginato Ragazzi guardate che tatuaggio Ragazzi eh Buon Natale Fai giro e Amici Effettivamente mi sembra un po' Gumpio Sembra un salamino Mi fa ridere Il mignolo di Saito Mi fa sempre ridere Adesso che lo guardo Mi fa ancora più ridere Sono sopra perché Mi fa proprio ridere Sono sopra Oh Dio Ok raga Ok raga Ho letto solo ora Ho letto solo ora Vedete? A me non serve il viola in silenzio Non serve il viola in silenzio Io mi ci metto da sola Io ho parlato Io ho per tutto questo tempo Mutata Sono una cretina Ma perché siamo qua? Non ho capito Irene 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 Sì? Puoi dire il mio nome? Film show live Ma che burinato è? Mi pare? Sono scemi Ma pensa il genio Che ha fatto questa cosa Amio 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 Io ti guardo E sorridio 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 Sei ridio? So lillo? Sorridio Non puoi dire sorridio Senza dire po' No 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 Amio Cosa dici Amio No Io amio No 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 Grazie a tutti.